Buono, buono Memphis. Memphis? Memphis! Depay! Un giocatore semplicemente unbelievable, semplicemente magnifico, awesome! 1-0 Memphis Depay. Una posizione al bacio, imprendibile. Mamma mia, Memphis Depay. Ballo. Faffanculo, ha! Memphis! 2-3 ragazzi! 2-3 minuti per puntare la divisione 1! Finalmente, terzo regno della partita! Alla fine che entra! 2-3 ragazzi! 2-3 ragazzi! 2-3 ragazzi! 2-3 ragazzi! 3-3 ragazzi! 4-3 ragazzi 1-2 ragazzi! Augio! 4-3 ragazzi! Musica Ouca. 7-3 ragazzi! 5-3 not a ver! dell'avversario al 60esimo si sblocca l'ottavo di finale di Coppa Tazzo di Liga Luca Magri cosa ha fatto il nostro capitano? Bacca! Bacca! Cosa ha fatto il Bacca? 4-0, facciamo il quadro, Bacca va a chiudere! Bacca! Torna a segnare! Guardate qua! Errore dell'avversario! Donna giocazione... Godà con il pallonezzo da fuoriare.... Andate completamente battuto questa cosa... Non come Guardi per esempio Torneo... E' il salvaggione di Felipe Morezza sulla linea. Buu! 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 Noi, 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 noi Noi, no, 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 no Noi, no, 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 no C'è la meta! Seth Piedre, infresibile! Grazie tanto! Fai un gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! Guardate qua! È gol! È gol! È gol! Il Kun Agüero Il Kun Agüero Il Kun Agüero Iramona con il squint Il Kun Agüero Iderrabom Buono Magincio Rama, Rama è fresco Rama è fresco Rama è fresco Cosa ha fatto Rama Perché vede Bruin Proprio nel finale La veniamo qui 3 a 0 Ma cosa ha fatto Rama Ma cosa fortusamente ha fatto Rama Fresco come una rolda Fresco come una rolda Punta di 62 E la mette dentro Dentro il Kun Agüero Kevin Devone 6 a 0 il gol però E' di la maravilla La velocità costa Palla Spera di Carrasco Spera di Carrasco Derrick ha giocato Un mondo C'è il Magogu 2 a 2 2 a 2 2 a 2 Top pressure team Spera di Carrasco E' di la maravilla E' di il Magogu Il Magogu E' di il Magogu 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Finalmente E' militato questo 3 a 2 Geri in Magogu Per la cosa Assolutamente Disumana Geri dentro Geri Geri Sulla linea del poligioco Geri Geri Un mostro 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 Geri In Magogu Bakogu 4 a 3 4 a 3 4 a 3 Piselloni Che partita signori La incrocia benissimo Non come a fine primo tempo Semplice Semplice Geri Doveva essere Poker Ho Berlino Nello drink A trick Geri Bakogu E' tripleta in questo secondo tempo Dopo i gol di Mard Parecio Non è calcio Sau dentro 3 a 0 Jovinko Sebastien Jovinko L'Italia Con questo modulo Spacca Il campo 3 a 10 Utrac 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 Utrac